Sittin dell'Italia dei Valori davanti al Ministero della Difesa, a sostegno dei due Marò sotto processo in India. Vogliamo sapere la verità sulle prove che ci sono e che sono tenute nei cassetti, ha detto il segretario Ignazio Messina. Per questo abbiamo fatto un'interrogazione al Parlamento europeo. Il governo deve intervenire, vogliamo che i nostri militari rientrino in Italia da innocenti.